Usei archeologici chiusi in Valle Camonica, ma la questione riguarda l'intera Lombardia per un totale di circa 40 dipendenti e 11 in valle. Le cause dello stopo sono la conseguenza delle difficoltà di trovare un accordo contrattuale accettabile tra il personale esterno di vigilanza e d'accoglienza che lavora a supporto del personale interno del Ministero della Cultura. Avrebbero dovuto prendere servizio dal primo dicembre, ma la dita che si è aggiudicata all'appalto non intende applicare il contratto nazionale, peraltro ritenuto già inadeguato dalle organizzazioni sindacali. Intenderebbero applicare condizioni di lavoro peggiorativo e con stipendi al ribasso. In queste condizioni i lavoratori si sono rifiutati e continueranno a farlo di prendere servizio. La questione infatti si trascina ormai da troppo tempo e le organizzazioni sindacali chiedono che la vicenda venga risolta una volta per tutte. La situazione, io seguo questi appalti da quasi sette anni ed ogni un anno, due anni ci ritroviamo davanti a queste situazioni. Ad ogni cambio appalto ci sono dei problemi. Alla base c'è che ci sono sempre dei cambi appalti fatti dal Ministero della Cultura al ribasso, dove vengono inseriti dei contratti collettivi che nella maggior parte dei casi non sono nemmeno sottoscritti dalle più importanti organizzazioni sindacali, con delle paghe sempre molto basse e delle gare d'appalto sempre fatte ai minimi. In questo caso è successo che il Ministero si è mosso un giorno prima di quello che doveva essere il cambio appalto. Ad oggi la situazione è in stallo. Fra qualche ora i sindacati incontreranno l'azienda, ma temono di non riuscire a trovare un accordo. Intanto anche gli enti locali si stanno muovendo, comunità montana e comuni, il PD Camuno e mercoledì dovrebbe esserci un incontro con il Ministero della Cultura. E speriamo davvero che questa situazione si possa sbloccare, perché è assurdo che nei musei, ma come succede negli ospedali, ci siano i dipendenti pubblici che hanno dei contratti stabili e con delle retribuzioni dignitose. E al loro fianco lavorino i lavoratori degli appalti, che purtroppo non hanno contratti stabili, sono la maggior parte assunti da cooperative o da aziende, che però applicano purtroppo dei contratti che sono molto molto precari. Tutto questo inoltre non fa bene al turismo. Ad essere chiusi in Valle Camonica sono infatti alcuni fra i principali musei del sito Unesco 94, il Mupre di Capodiponte, il Museo Romano di Cividate Camuno e il Parco di Nacuane.